E non poteva passare inosservato dal nostro obiettivo e dal nostro microfono Paolo Valcer che è l'amministratore, uno dei titolari della Aeromec 2, azienda veneta che si è sposata possiamo dire con la brillanza in una manifestazione tra le più importanti e soprattutto su un circuito veramente esaltante. Benvenuto tra noi. È un piacere e un onore essere qui in questo momento a rappresentare la mia azienda che si è sposata con il ciclismo, sposata con Brugherio, una location così bella, piena di emozioni e di atleti che hanno dato il massimo complimenti anche all'organizzazione in questa bella giornata. Voi siete anche sponsor di una squadra società sportiva che quest'oggi, tra parentesi, è entrata anche di fatto nell'organizzazione di questa manifestazione. Sì, io sono sponsor della sorgente Pradipozzo già da parecchi anni, ci sta dando delle grandissime soddisfazioni, grandissimi titoli anche a livello italiano e è un onore per noi far parte, essere sponsor di questa bella azienda. Era Carlo Falcer che con il fratello Paolo è titolare della Euromec 2 che si è affacciata per la prima volta alla Ciccocross, almeno per quanto riguarda l'aspetto organizzativo e soprattutto fuori la propria sede che è in Veneto. E lo ha fatto grazie al contatto con il gruppo sportivo sorgente Pradipozzo, società presieduta da Daniele Comacchio che appunto è stato tradunione con Carlo Pirola e ha fatto sì che questa importante azienda della provincia di Venezia, Portoguaro, sia venuta fino qui in Brianza ad accompagnare per mano gli sforzi organizzativi della Lega Ciclistica Bugherio 2, dell'MTB Inc. e della Bugherio Sportiva presieduta da Franco Sardi, altra realtà ciclistica della comune in provincia di Monza e Brianza. Sono partite nel frattempo le ragazze, si chiama categoria Open Femminile, gareggiano le donne elite, le under e le juniors e poi verranno stilati appunto gli ordini d'arrivo per categoria. Un buon gruppo di donne e tra queste nelle immagini che andavano a coprire l'intervista del signor Carlo Falciere avete notato la maglia tricolore di Eva Allekner. Anche lei è quest'oggi in gara senza la sua maglia sgargiante ma con quella di leader della provvisoria classifica del Master Cross SLSMP avendo vinto la prima prova che si svolta a Cresce in Trentino. Ed è proprio un atleta del Trentino Alto Adige, lei corre per il team l'APR. Anna Oberparleiter è il suo nome, atleta che conosciamo da diverso tempo, simpaticissima e soprattutto che rappresenta quello che a noi piace in modo particolare per le ragazze che gareggiano. La voglia di giocare, la voglia di divertirsi, la voglia di fare fatica ma con una grande passione. Lei ha due passioni, eccola inquadratamente guida il resto del gruppo delle ragazze che entrano nel famoso giello e lei ricordiamo nel corso della stagione invernale alterna questa passione con l'insegnamento maestra di sci in effetto nella località dove risiede. In seconda posizione in questa fase di gara abbiamo visto la maglia rossa del team Isolmat portata da Rebecca Garibaldi, altra atleta che conosciamo da quando era giovanissima. Ora la Garibaldi si è fatta superare dalla numero 64 che risponde al nome di Alessia Bulleri. Ma attenzione perché proprio in questa curva, vedete, con grande capacità di guida passa in seconda posizione con il numero 61 Eva Lechner. Insomma qui abbiamo visto la dimostrazione di cosa vuol dire saper guidare e avere determinazione nei propri momenti particolarmente importanti nell'economia di una cosa. Quindi in testa in questo momento Eva Lechner, in seconda posizione Anna Oberparleiter ed in terza Alessia Bulleri. Questa è la situazione quando la corsa sta per portarsi nel tratto più spettacolare dove il numeroso pubblico, avete visto Carlo Pirola che viene usannato dai ragazzi che lo conoscono, era al fianco di Franco Sardi, presidente della Brugherio Sportiva. Come abbiamo già visto nelle gare precedenti, questo è uno dei tratti più interessanti a livello tecnico, richiede ovviamente grandi capacità di guida. Qui sotto i nostri occhi l'atleta che risponde dal nome di Giulia Bertoni, alta figlia d'arte, è proprio il caso di dirlo, che gareggia quest'anno per la Ucla 1991 Pacan Bagutti di Laigueglia. Anche per le ragazze ovviamente il tratto in salita da fare a piedi e poi ecco qui i gradoni. Solo pochi atleti in pratica scendono dalla bicicletta in questa fase, qui vedete la Bulleri che ha deciso evidentemente, giunta forse un po' troppo sbilanciata al momento di dare il colpo di Reni per sollevare la bicicletta, abbiamo detto quasi tutte fanno la salita in bicicletta. Col 74 a chiudere il gruppo avete visto l'atleta che indossa la maglia di leader della classifica per quanto riguarda le ragazze juniores. Alessandra Grillo, lei gareggia per la Selle Italia a Guerciotti Elite, quindi un'altra delle ragazze delegate dalla famiglia Guerciotti a portare in giro il proprio prestigioso marchio. L'altra l'avete vista sicuramente, avete riconosciuto la sua maglia, Francesca Baroni, poi con il 91, in questo caso avete visto Martina Bassi, con il 95 Camilla De Pieri della Lucchini a Osta e intanto vedete il Domenico Garbelli, espertissimo di ciclocross, non poteva mancare lui oggi qui sul Campi dell'Incre a Stadion. Vedete che si è formato in testa un terzetto ma non è che le altre abbiano perso grande distacco. In quarta posizione si è inserita Silvia Persico davanti a Rebecca Gariboldi e poi via via tutte le altre. C'è lotta nella categoria juniores tra Nicola Fede e Alessandra Grillo. Nicola Fede ancora per la Valcar così come Silvia Persico. È passata sotto i nostri occhi Mattide Bozzana della Pradiporza, anche lei a Juniors, quindi c'è una grande lotta all'interno della corsa appunto per seguire le varie classifiche, le varie categorie. Chi invece sta cercando di prendere il largo è lei, Eva Lechner, l'atleta più volte vincitrice di campionato italiano di ciclocross, otto volte per esattezza a tricolore ma nella sua carriera, è giusto ricordarlo, è stata anche campionessa d'Italia su strada, infatti alterna questa ragazza l'attività della ciclocross in inverno con quella in estate della mountain bike ma non disdegna anche la partecipazione ad alcune gare su strada. L'abbiamo anche vista partecipare al Giro del Trentino, soprattutto l'anno in cui questa manifestazione si concludeva con una tappa proprio nel suo paese natale, stiamo parlando Cardano in provincia di Bolzano. Intanto avete visto che davanti a Nicolfede e a Alessandra Grillo abbiamo visto la sagoma di Sara Casasola, un'altra delle belle realtà, quest'anno donna under e intanto avete visto con la divisa arancione del suo team colui che segue tecnicamente nella preparazione Eva Lechner, stiamo parlando Luca Bramati. Avete visto ancora una volta la presenza di Daniele Pontoni, anche lui molto impegnato in questa fase perché ha due atleti che gareggiano per la sua società, società che lui dirige tecnicamente, Alessia Bulleri e Sara Casasola nelle prime posizioni di corsa. Quindi impegnatissimi questi tecnici ad assistere le proprie atlete e a consigliarle. In un passaggio precedente abbiamo sentito anche la voce di Luca Bramati chiedere quante pulsazioni aveva Eva Lechner in quel momento, tutto questo controllato ovviamente dal mini computer che ogni atleta ha sul manubrio della propria bicicletta. Un ciclismo che è diventato particolarmente tecnico che a noi non piace più di quel tanto sotto questo aspetto ma che comunque è giusto riconoscere permette ad ogni atleta di capire quando sta forzando troppo o quantomeno senza lasciarsi travolgere da quelli che sono gli spiriti, potremmo dire morali, gli spiriti agonistici del momento. Altra fase tecnica seguita da vicino avete visto Fausto Scotti sulla destra del teleschermo che segue ovviamente con attenzione le voversi della gara che rivede in seconda posizione Garibaldi davanti alla Bulleri, Persico e Baroni nell'ordine ad inseguire la scatenata, è proprio il caso di dirlo, Eva Lechner. Un'atleta che ha già ottenuta una vittoria nel corso di questa stagione in Svizzera il 12 novembre ed è giunta quarta in Coppa del Mondo proprio la settimana precedente in questa gara in una prova della challenge mondiale che si è svolta in Danimarca. Ed ecco il quattetto in seguitore con la la Rebecca Garibaldi che ricordiamo di un titolo italiano in quelle di Vittorio Veneto ma in questo tanto avete visto che la Silvia Persico ha preso il comando ma attenzione perché ad inseguire questo quattetto si porta in questo momento Sara Casasola che viene incitata da alcuni sportivi presenti poi Nicola Fedi e con il 74 Alessandra Grillo ricordiamola leader della classifica provvisoria per quanto riguarda le donne Juniors e poi abbiamo visto oltre ad Anna Oberparleiter con il numero 70 Giovanna Micheletto figlia di quella presidente del comitato regionale Veneto presente ovviamente anche in questa manifestazione. Ecco la scalinata, gli scaloni così vengono definiti da tutti affrontati da Eva Lechner, l'unico problema in questo caso salire con la bicicletta è quella di subire una pizzicatura della gomma ma una donna esperta come Eva Lechner sa come affrontare queste asperità, una donna che ovviamente abbiamo parlato di ciclocross perché di questo stiamo guardando ma non dobbiamo dimenticare che è una delle pedine importanti per quanto riguarda anche la mountain bike. È stata Oro, quindi campionessa del mondo nella team Relais, nella cronometra squadra, potremmo dire così, nel 2009 e nel 2012 per quanto riguarda il ciclocross invece è stata Argento nel 2014 a Doggeride e intanto vedete che c'è lotta tra le quattro tra la Bulleri, la Persico, la Baroni e la Garibaldi che si alternano ogni volta che le andiamo ad osservare le loro posizioni sono sempre cambiate ma nella realtà sono particolarmente unite. Un quartetto ma attenzione perché si sta avvicinando Sara Casasola e anche la giovane Nicole Fede, ricordiamo Nicole Fede appartiene alla categoria Juniors, eccola qui inquadrata, gareggia per la Valcar e suo fratello ha già conquistato la vittoria per quanto riguarda la gara riservata agli allievi al primo anno, una intera famiglia allenata dal padre Santino e la supervisione di Davide Capo Arveni che nella realtà prepara diversi degli atleti che vediamo quest'oggi qui impegnati. Lui è presidente della cadezzate e ha anche delle pedine importanti come Gabriele Fede che abbiamo detto ha conquistato la vittoria nell'allievi al primo anno e che si presenterà ai prossimi campionati italiani come uno degli uomini papabili al titolo, lui che ha già conquistato comunque un tricolore nella categoria esordienti. Ma torniamo alle donne elite, vedete l'espressione impegnata di Eva Lechner che gareggia sempre ad altissimo livello e in seconda posizione a questo punto è passata la Francesca Baroni. Ricordiamo che la Baroni è stata campionessa d'Italia pensata per due anni consecutivi nella categoria Juniors. Due anni fa Monte Prat in casa di Daniele Pontoni con un tempo incredibile l'anno scorso invece sui prati di Silvelle di Trebaselle. Ma torniamo dopo aver visto praticamente le prime dieci atlete in classifica provvisoria passare sotto il nostro obiettivo eccoci di nuovo su lei la regina del ciclo cross la regina della fuoristrada potremmo dire così Eva Lechner che da tanti anni ormai è sulla cresta non è ancora anziana ancora molto da dire ma diciamo che ha iniziato giovanissima a farsi notare. Bella la posizione in bicicletta di Francesca Baroni che a questo punto è in seconda posizione controlla da lontano Eva Lechner chi è ad inseguirla vedete che continua a voltarsi quindi va a guardare il computer posto sul manubrio della propria bicicletta lo vedete una scatoletta grigio chiara da lì praticamente va a forzare più o meno il ritmo per non superare i battiti consigliati dal suo preparatore Luca Bramati. Una Eva Lechner che rappresenta sicuramente un fiore all'occhiello per la federazione ciclista italiana lei gareggia per in una squadra americana la vedete proprio sulla propria maglia e poi fa parte della numerose nutrito gruppo di atleti che hanno anche un posto nell'esercito come lei c'è anche il nostro Gioele Bertolini che vedremo poi nella gara riservata all'open maschile. Continua intanto nella seconda posizione la giovane Francesca Baroni ricordiamo atleta che è al primo anno nella categoria e ricordiamo che di fatto solo da un paio d'anni la federazione ciclista internazionale l'U6 ha fatto partecipare l'atlete in categorie separate fa partecipare l'atlete in categorie separate e assegna una maglia proprio anche alle donne under che gareggiano insieme alle juniors e quest'anno proprio ai recenti campionati europei che si sono svolti a Tabor la conquista per il secondo anno consecutivo dell'ambita maglia di campionessa continentale la bergamasca Chiara Teocchi in forza alla bianca ma torniamo alla gara qui di Brugherio Chiara Teocchi ha deciso di trascorrere un periodo di vacanza in Australia quindi non è presente oggi sui prati di Brugherio ma ricordiamo che l'anno scorso proprio fresca della titolarità della maglia continentale al primo anno ha conquistato la vittoria qui a Brugherio insomma una assenza che comunque quest'oggi non dico che si fa sentire ma che ci sarebbe piaciuto sicuramente vedere Chiara Teocchi impegnata nuovamente su questo tracciato ma è giusto che si riposi ha avuto anche lei un'intensa stagione che la resta protagonista nella mountain bike così come la Eva Lechner che invece nel suo inverno ha sempre dato particolare attenzione al ciclo cross con prestazioni di altissimo livello prestazioni come quelle che sta dimostrando qui all'Increa Stadium se n'è andata ha lasciato tutte le ragazze lì a bocca asciutta potremmo dire e continua nella sua marcia non eccessivamente non la vediamo eccessivamente impegnata ma ha guadagnato un margine di vantaggio abbastanza sicuro ed ecco che ovviamente sta tranquillamente a controllare in fase di controllo c'è invece lotta per le altre posizioni di rincalzo per gli atti gradini del podio vedete che in seconda posizione si è portata Francesca Baroni del Salitalia Guerciotti Elite ed è marcata a vista è proprio il caso di dirlo da Alessia Bulleri altra donna che ha ottenuto diversi successi soprattutto ha indossato parecchie volte la maglia azzurra lei viene dall'isola d'Elba e in quarta posizione abbiamo notato la presenza di Silvia Persico altro tratto particolarmente spettacolare è quello che stanno affrontando le ragazze vedete che di fatto le cose continuano a cambiare in pochissimi metri può cambiare la situazione è ritornata Alessia Bulleri in seconda posizione terza Francesca Baroni e quarta vedete Silvia Persico che precede seppur di poco Rebecca Gaiboldi ma attenzione anche a Sara Casasola che ormai è lì veramente a pochissimi metri dall'atleta Brianzola già tricolore in quella di Vittorio Veneto nelle categorie inferiori e contiene intanto lo show di Eva Lechner che interpreta questa gara soprattutto come un grande test lei non lascia niente al caso quindi sta provando sia materiali che ritmi per affrontare i più importanti non ce ne vogliono gli organizzatori i più importanti appuntamenti della stagione come Coppa e campionati del mondo ma torniamo ad osservare le più mediate inseguiti ci vedete c'è questa continua alternanza tra la Bulleri e i Labaroni quindi ci sarà lotta fino all'ultimo metro potremmo dire per salire sul secondo e terzo gradino del podio ci sembra ormai da poter dire che loro saranno le atlete che andranno a occupare questa posizione ma in quale modo lo staremo a vedere solamente dopo il traguardo ecco la Persico che l'anno scorso è stata protagonista ai mondiali che si sono svolti in Lussemburgo un atleta che fa attività anche su strada e che ha trovato nel Cirocross la possibilità di ottenere non solo grandi soddisfazioni ma perché no anche la gioia di correre nel periodo invernale perché per atleti come queste si tratta proprio di gioia nell'affrontare domenicalmente queste prove che si svolgono in tutta Italia va detto che in questo momento la prima tra le donne Under è Francesca Baroni mentre la prima tra le donne Junior adesso abbiamo visto transitare sotto i nostri occhi in precedenza Nicola Fede della Valcar PBM con a ruota Alessandra Grillo con lei che detiene in questo momento la maglia di leader e a proposito di maglia di leader ecco lei Eva Lechner che ha già conquistato la vittoria nel corso della prova di apertura di questo Master Course SLMP che si è svolta a Kles davanti alla giovane Sara Casasola e in terza posizione Alessia Bulleri che vediamo qui impegnata a tenere la frenesia di quella giovane Francesca Baroni una Baroni che ci sembra all'altezza della situazione hanno puntato molto su di lei Alessandro e Paolo Guerciotti e stanno ottenendo delle buone soddisfazioni anche questa gara che vede la presenza appunto di entrambi li rende molto molto soddisfatti anche in previsione futura non dobbiamo dimenticare che la Baroni ha partecipato anche a lei ai campionati europei non ha avuto un grandissimo risultato ma per lei che al primo anno nella categoria andare già ai campionati europei è un grande successo soprattutto in visione futura chi invece di esperienza ne ha tantissima ecco lei che è inquadrata in questo momento dall'obiettivo del nostro operatore Andrea Pescarolo stiamo parlando di Eva Lechner che si sta incamminando verso la conclusione della gara in seconda posizione a questo punto vediamo Alessia Bulleri che ha avuto ragione di questa continua lotta con Francesca Baroni siamo in rettilineo arrivo un saluto all'amico Gianfranco Soncini che è ritornato tra noi dopo un periodo di infortunio causa un incidente stradale e non poteva mancare quest'oggi qui ad osservare lo spettacolo che Eva Lechner ha dato ai tantissimi appassionati qui convenuti vittoria quindi per lei che segue sulla Budor quella della campionessa europea dello scorso anno seconda posizione Alessia Bulleri della Trentino Cross Junt Selle SMP e in terza posizione Francesca Baroni che al di là di ogni cosa ha ottenuto sicuramente un prestigioso traguardo e poi viene abbracciata dalla Eva Lechner quarta posizione per Silvia Persico seguita da Rebecca Gariboldi da Sara Casasola che taglia in questo momento il traguardo in sesta posizione e poi in settima generale ma prima delle Juniors è Nicola Fede atleta quindi della Valcarte prima nella sua categoria ora è tempo di interviste mi sono divertita molto e sono molto contenta di aver vinto facile non è mai si fa comunque fatica ma mi sono divertita e avevo la gamba molto buona per quello era più facile diciamo sotto parentesi ma sì all'inizio non sono riusciuta a partire bene e poi ci ha messo un po' di passare davanti a tutte ma alla fine poi quando ero davanti sono riuscito a spingere bene ho subito fatto il vuoto e ho fatto la mia gara e sono contenta sì oggi è una bella gara è un percorso molto bello sembra di essere in Coppa del Mondo anche con tutto il tifo soddisfatta quindi questa ragazza che ci ricorda molto Eva Lechner quando era giovane ci sembra particolarmente soddisfatta Francesca Baroni mentre sale sul podio applauditissima Eva Lechner che abbraccia tutti e due le sue antagoniste che naturalmente viene complimentata anche da Giacomo Salvador nella frattempo la signora Rosa Di Gioia presidente dell'MTB in Crea va a consegnare le medaglie predisposte dall'organizzazione per ricordare alle atlete il loro piazzamento in questa importante gara consegnare i fiori è Daniele Comacchio ricordiamolo presidente del gruppo sportivo dell'associente di Pradipozo che qui posa e osserva che il signor Maurizio Schiavon con titolare della selle SMP fa indossare ad Eva Lechner per la seconda volta nel corso di questa stagione ciclocrossistica la maglia di leader per la categoria Donne Open una bella quadretto quindi di persone che vogliono bene al cicchismo che vogliono bene a queste ragazze che stanno facendo di tutto per soddisfare le aspettative dei propri sposo nel frattempo ecco che il signor Maurizio Schiavon ha fatto indossare anche la maglia di leader della categoria Juniors a Alessandra Grillo che rimane in testa alla classifica provvisoria c'è stata la premiazione anche del trofeo Piemonte-Lombardia e l'ultima immagine riguardo la premiazione di Rebecca Gariboldi con un trofeo che gli è stato consegnato da Daniele Comacchio